Mollo tutto e apro un ciringhito. Tempo fa avremmo detto così. Oggi si dice mollo tutto e apro una startup. Basta capo arrogante, basta collega fancazzista, basta stage non remunerato o stipendio streminzito. Apro una startup e divento milionario. Case di lusso in Silicon Valley, jet privati, feste, milioni e milioni di soldi arrivati da investitori generosi. Insomma una via, una strada dritta verso il successo e la felicità. E poi c'è la realtà. Che più una strada tortuosa piena di buche in salita e anche coi burroni. Un viaggio dove la distanza, la durata e anche le risorse necessarie per arrivare a destinazione sono del tutto incerte. Ecco perché alla fine quest'insieme di incertezze e tutti i rischi che affronti farebbero cadere i capelli anche a chi non ce li ha già. Ecco perché dico oggi in questo evento del TEDx parlare di Kintsugi e ho anche ripetuto varie volte per dire Kintsugi correttamente. Ecco perché oggi parlare di startup e raccontarvi la storia della mia azienda è appropriato. Perché voi forse non lo sapete ma solo una startup su quattro ce la fa. Delle altre non si raccolgono neanche i cocci. Cioè è proprio impossibile riappiccicarli. E per tutte le startup c'è un primo stop inevitabile. La Valle della Morte, che non è una località del Grand Canyon ma è piuttosto la Salerno-Reggio Calabria mentre cerchi un autogrill. È il momento in cui non sei né troppo grande come azienda né troppo piccolo. Non sei né carne né pesce. Stai soltanto cercando di raccogliere più soldi possibili per sopravvivere. Per arrivare al momento in cui sarai autosufficiente. Ecco questo grafico difficilissimo in realtà vi fa vedere che nel momento in cui sei nella Valle della Morte hai già chiesto soldi a, nell'ordine, i tuoi genitori, il tuo migliore amico, i compagni delle superiori, poi sei passato allo zio d'America, infine hai continuato con gli angel, hai fatto l'acceleratore, l'equity crowdfunding, insomma l'obiettivo è arrivare al tuo break even, essere autosufficienti. Ecco dalla Valle della Morte ci siamo passati anche noi. E in realtà abbiamo iniziato nel 2011, quindi tanti anni fa, con una start-up che comparava i prezzi dei supermercati. Grande successo, perché l'idea era nuova. Abbiamo vinto premi negli Stati Uniti, abbiamo avuto tantissimi articoli sui giornali, amica, grazia, gente, come le chiamo io, se non so, decoscia lunga, no? Quelle cose un po' da donna. E poi tanti investitori interessati alla nostra azienda. Abbiamo raccolto due milioni di euro che erano lì sul nostro conto. Una start-up di successo. No. No perché in realtà man mano che cerchi di capire qual è il tuo business model, cioè come fare soldi, in realtà le tue casse si svuotano. Quindi man mano vai drenando, bruciando soldi. E quindi cosa fai? Vai a parlare dagli investitori, quelli che ti avevano messo i due milioni di euro, i più interessati in teoria a non perdere quei soldi. Vai e dici caro investitore vorrei che mi aiutassi e loro cominciano a parlarti in una lingua strana. Ti cominciano a dire ma qual è la tua vision e la tua mission per i prossimi cinque anni? Ma che sono? Nostradamus? Cioè che ne devo sapere tra cinque anni? Io vorrei pagare gli stipendi. Vuoi fare un bridge round o una convertible note? Sarà una pratica sessuale, cioè ti preoccupi. E poi qual è il tuo unfair advantage? Insomma racconto spesso questo aneddoto. Portai una mia amica, Lucy, che è oggi qui presente, in questo magico mondo degli eventi per start up. Presentò la sua idea, cioè un'azienda per il riciclo e a un certo punto dopo la presentazione uno di questi investitori in giacca e cravatta, compito, molto serio, arrivò a chiederle ma qual è il tuo asset principale? Lucy che era appunto una novellina, ingenuamente rispose. Il mio asset? Il mio furgone Ford Transit, cioè il furgone col quale trasportava questi oggetti riciclati. Ecco la realtà è che tra te, la tua nano azienda e i tuoi investitori si crea un mondo parallelo. Tu cerchi di sopravvivere e loro giocano un po' a fare i grandi guru della Silicon Valley, offrendoti quattro spicci per cambiare il mondo. Ecco perché non sempre avere degli investitori è la scelta giusta per il tuo capitale sociale. In realtà poi a noi andò bene, nel senso che scoprimmo quello che doveva essere il nostro business model, come dicevo prima, come fare soldi con la spesa online. Bingo, eravamo arrivati al momento giusto, al posto giusto. Una grande catena del nord aveva deciso di lanciare in tutto il nord Italia. Ecco qui, questa è la campagna pubblicitaria del 2015. Tu vai alla beauty farm, noi nel frattempo ti prepariamo la spesa. Finalmente era la strada che stavamo cercando. Abbiamo aperto un bellissimo ufficio in centro a Milano, il fatturato raddoppiava anno su anno e avevamo ben 24 dipendenti. Ce l'abbiamo fatta. E invece no, perché come dico sempre, la vita degli imprenditori è un po' come le montagne russe, up and down. Pensavamo di essere usciti dalla valle della morte, ma non è così. Perché cosa successe? Beh, un paio di anni dopo, la stessa società, che era il nostro principale ma anche unico cliente, decise di cambiare fornitore, legittimamente. Per cui noi ci ritrovammo il primo gennaio del 2018, dopo quattro anni di splendore, a dover ricominciare da zero. Avevamo zero soldi in cassa, ma 24 stipendi da pagare. Cosa fare? Sicuramente stringere le chiappe. Nel senso che fu un momento triste perché licenziai più di dieci persone, alcuni amici da una vita che non mi parlarono più da quel momento. Ricapitalizzai con i miei risparmi l'azienda perché gli investitori non volevano più mettere un euro, anzi volevano liquidare. Del nostro bellissimo loft in centro a Milano fu chiuso e tornammo in quattro in un co-working in stazione centrale a Milano. Quindi direi che per noi era arrivato il grande inverno. Forse nessuno lo sa, ma ora lo sapranno tutti, per un anno e mezzo io rinunciai al mio stipendio pur di pagare e aiutare a pagare gli stipendi degli altri. Qualcuno mi disse ma licenzia tutti e aspetta tempi migliori. Io assolutamente non volevo farlo, anche un po' incaponendomi sull'idea. E allora cosa abbiamo fatto? Ho incominciato a incontrare tutti, nuovi possibili investitori, banche per un prestito che ovviamente non mi diedero, possibili acquirenti come anche acquirenti improbabili. Incontrai amici di amici ma anche amici di nemici, tutto per riuscire a racimolare altri soldi e andare avanti. Eppure la verità è che noi in quel momento non eravamo più sexy. L'azienda era sul mercato ormai da anni. Lo speso online non è una tecnologia che cambierà il mondo come l'intelligenza artificiale. L'e-commerce non cresceva tanto come mercato e io come imprenditrice in realtà ero già vecchia. Quindi nel mondo delle start-up dopo un paio di anni eravamo vecchi. Ci buttiamo allora nella ruota del criceto. Per forza dovevamo riuscire a autosostenerci. Cerchiamo più clienti, dovevamo acquisire più clienti possibili. Tiracchiamo un po' il tempo di pagamento dei fornitori e nonostante tutto cercavo di dormire la notte. Però in realtà non ci riuscivo. E durante una di queste notte insonni a un certo punto mi illuminai di immenso e decisi. Mi dissi svendiamo la concorrenza. Dato Barbara basta, ok, non diventerai ricca questa volta e parentesi non si fanno start-up per diventare ricchi. Ok, comunque non diventerai ricca questa volta ma almeno hai fatto esperienza. È un po' come quando ti dicono com'è il tuo nuovo fidanzato ma è interessante un tipo, no? Cioè te la fai andare bene. Quindi prepariamo il nostro contratto di cessione. Siamo ormai nel 2020, inizio del 2020. Ragazzi dieci anni dopo eravamo praticamente a tarallucevino. I miei dipendenti erano tutti salvi, sarebbero stati inglobati nella nuova azienda e anch'io diventavo una dipendente come gli altri. Insomma, tanto rumore per nulla. Eppure, come nelle migliori telenovelas, il marito che è morto nella stagione precedente si ripresenta alla cena di Natale. Esattamente così ci fu il colpo di scena. Attenzione alla data, siamo inizio del 2020. Cosa succede? Il Covid. Inutile dirvi che in una notte si decuplicarono le richieste di spese online sulle nostre piattaforme. Quello che vedete qui è un grafico che vi mostra l'andamento delle richieste della spesa online rispetto a ogni dpcm del presidente Conte. Ok? Ogni dpcm c'era un picco. Noi cercavamo ovviamente di rispondere a tutta questa domanda e abbiamo lavorato, credo dalle 5 del mattino fino alle 23 per più di tre mesi. Io ricordo che durante il lockdown una mia vicina dalla casa di fronte a un certo punto mi chiamò e mi disse ma tu cosa fai di lavoro? Ma perché? Che ti importa? Ma no perché ti vedo tutto il giorno urlare al telefono. Perché cercavamo di gestire le consegne a distanza. Facevamo un servizio sociale per un momento difficilissimo della nostra Italia. Inutile dirvi che a questo punto del contratto di cessione, no? Forse abbiamo deciso di fare un o la va o la spacca, all in. Quindi non vendiamo più, ci concentriamo sul nostro business. Abbiamo fatto una scommessa che comunque l'e-commerce dal covid in poi sarebbe cominciato a crescere in modo rapido ma costante. E vi posso dire che ancora oggi la scommessa è vinta perché comunque cresce del 10% anno su anno. Ad avercene di business così. Ora vi chiedo quanti di voi hanno fatto, fanno la spesa online a Messina. Alzate la mano, non ho detto chi mangia la cioccolata prima di andare a dormire. Alzate la mano, chi fa la spesa? Bravi. Ecco. Migliaia di persone ogni giorno ci aprono la porta per ricevere la loro spesa. Sono famiglie numerose, mamme con bambini, disabili, sono persone anziane, ma anche semplicemente pigri. Molti pigri. Ma anche semplicemente pigri. Quindi vi lascio con tre insegnamenti, tre cose che ho imparato e anche con un ringraziamento. La prima è che se vuoi fare start up devi fare dei sacrifici. Per diverso tempo probabilmente dovrai accantonare le tue passioni, famiglia, amici, tempo libero per raggiungere quello che è il tuo obiettivo, cioè la sostenibilità della tua azienda. Quindi se volete intraprendere questa avventura, attenzione, ci sono dei sacrifici da fare. Secondo insegnamento, le decisioni. Qualsiasi decisione tu abbia presa in realtà è quella giusta. Anche se poi si è rivelata sbagliatissima. Perché? Perché in quel momento storico, con determinate circostanze ed elementi, quella era la decisione da prendere. Non esiste un buon tempo, un brutto tempo, non esiste una buona decisione, una brutta decisione. Si decide con quello che hai in quel momento. Quindi non rimorsi e non rimpianti. L'ultimo insegnamento, che è anche un ringraziamento, è per dire che io ho fatto tanti sacrifici e continuo a farli. Ho preso tanti rischi e continuo a prenderli. Ma da sola non sarei potuta resuscitare almeno tre volte. Cioè in dieci minuti già sarei suscitata tre volte nella storia, no? Questo è possibile solo grazie a un team. Quindi ringrazio il mio team e molti sono presenti anche oggi. Perché senza un team che crede in te, che ti dà fiducia anche quando dici le cose più strane, ogni volta, ogni singola volta non sarebbe possibile riappiccicare i coach con loro. Grazie.